Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala conciliare Filippo Montesini del Comune di San Costanzo. È un grande onore per me e per la mia amministrazione oggi poter ospitare la presentazione del piano sociale e territoriale, dell'ambito sociale e territoriale 6 in questa sede. Ringrazio quindi tutti i sindaci che sono presenti a partire dal sindaco Massimo Seri del Comune di Fano, per il Comune di Fratte Rosa ringrazio l'assessore Rosa Tordisi, per il Comune di Mondaglio l'assessore Roberta Galassi, per il Comune di Mondaglio è presente il sindaco Nicola Barbieri con l'assessore dei servizi sociali Alice Andrioni, per il Comune di Monteporzio il sindaco Giovanni Breccia con l'assessore dei servizi sociali Laura Euseppi, per il Comune di Pergola il sindaco Simone Aguilarelli, per il Comune di San Costanzo oltre a sottoscritto è presente l'assessore dei servizi sociali Milena Volpe, per il Comune di San Lorenzo in Campo il sindaco Davide Dell'Urti, per il Comune di Terra Roberesche abbiamo Luciano Barbetta che oltre a rappresentare il Comune di Terra Roberesche anche il Vice Presidente dell'ambito sociale territoriale Seri, saluto chiaramente il Presidente dell'ambito sociale Dimitri Tinti e la coordinatrice Roberta Galiezzi. Ringrazio per la loro presenza chiaramente anche tutti i sindacati presenti oggi ma anche i rappresentanti del terzo settore che hanno partecipato a questo percorso partecipativo. Ringrazio anche Lucia Tarsi e Mirko Pagnetti che fanno parte della Commissione dei Servizi Sociali del Comune di Fano, grazie per essere qui questa mattina, ci fa molto piacere. Come altresì ringrazio la Consigliera del Comune di San Costanzo Margherita Moncoboni. In questo breve saluto istituzionale, insomma, da domenica del benvenuto, lasciatemi dire quanto sia importante per noi sindaci questa collaborazione con i servizi sociali, questa collaborazione tra noi nove comuni e con tutto l'ambito sociale territoriale Seri. L'impegno dei servizi sociali per noi che dobbiamo gestire giornalmente e anche nelle ultime ore ne abbiamo provo. Situazioni di crisi, oltre chiaramente a tantissime situazioni di fragilità, è una cosa importantissima e devo dire che nel nostro territorio, non solo quello dell'ambito sociale ma in quello della provincia, grazie a tutti voi c'è questa formidabile rete di aiuto che dà risposte veramente veloci e che sicuramente a noi fa svolgere il nostro ruolo così bello di sindaco, ma anche così granoso con estrema serenità, perché possiamo portare su una rete pubblica, ma anche di associazioni di volontariato che ci dà un grandissimo supporto. Oggi per me è un'occasione per testimoniare questa cosa e ufficialmente ringraziare questa fantastica rete che ci aiuta ogni giorno. Do quindi la parola al mio collega sindaco Massimo Serri. Grazie Filippo, anche io rinnovo il saluto a tutti i partecipanti, è una partecipazione qualificata e soprattutto territoriale, però lasciatemi prima di iniziare a scrivere una riflessione, mi sono dato una regola, ad ogni iniziativa a cui partecipo il mio pensiero fa di condanna a quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina, perché noi non possiamo senza mai condannare questi atti di violenza. Siamo qui a parlare del sociale di welfare e sappiamo che sono delle persone che stanno soffrendo e devo dire che è un territorio che ha dimostrato grande sensibilità e si è subito adoperato, però io penso che noi che rappresentiamo le comunità, il primo pensiero in qualsiasi cosa ne facciamo, debba andare verso un richiamo forte di condanna a questa atrocità, perché non li possono più. questo è un momento importante, non è un momento celebrativo e non deve passare inosservato, perché sotto certi aspetti non vuol dire che è evoluzionario, ma è un'evoluzione importante del pensiero dell'agire nel sociale. Il piano territoriale è innanzitutto un momento di partecipazione. Noi ci rimpiamo sempre la parola di partecipazione che può essere una complicazione nel fare le cose, ma in realtà poi nel lungo andare diventa una semplificazione perché significa condivisione, significa mettere assieme competenze e intelligenze, significa comprogettare. Quindi non è banale ed è un momento, come dicevo, importante. E questo non avviene soltanto attraverso il coinvolgimento delle rappresentanti istituzionali e delle sue articolazioni, ma in realtà una partecipazione che vende assieme pubblico e privato, vende assieme con le nostre politiche sociali, il privato sociale, il terzo settore, tutto con l'associazione di tutti coloro che nelle varie forme, come dicevo, operano e costruiscono il sociale. In qualche modo diventa una corresponsabilità anche tra pubblico e privato. Si passa da quello del welfare distributivo a quello che deve essere il welfare generativo. Cosa significa? Significa che tu rigeneri, crei nuove opportunità con questa collaborazione, questa sinergia tra pubblico e privato, significa, vediamo anche gli ultimi esempi, mi viene in mente a famola come una gestazione ultima che c'è stata, che porta nuovi servizi, che porta nuove opportunità. Insomma, non si parlava, mi ricordo 10-20 anni fa, della grande innovazione che era la società di orizzontale. Ecco, questo penso che sia la tradizione in termini empirici di quella della società di orizzontale, dove con umiltà bisogna dire che tu non riesci a arrivare dappertutto. E quindi se non si fa questa alleanza forte e ci si riconosce orizzontale, ci sarebbero delle raccune che comunque rimangono, ma si fanno un passo in avanti. O il piano territoriale e sociale, come dicevo, un metodo di partecipazione, ma è un cantiere, come dice sempre l'assessore quando facciamo le due interne, è un cantiere aperto, perché come tutte le cose c'è un'evoluzione costante, le cose mutano, cambiano e quindi bisogna avere quella capacità, come tutti i cani strategici, devono essere rigenerati continuamente, quindi mantenere questo metodo di lavoro per riaggiornare continuamente il piano. finisco solo con un'ultima considerazione che mi piace sottolineare. Il valore dell'ambito sociale. In questi anni ci si è investito molto, si è cresciuti molto, devo dire, e i risultati si sono visti, si sono visti dell'ottimizzazione delle attività, dell'ottimizzazione anche delle risorse che poi non è che devono essere risparmi, sono rigenerate anche queste. Guardavamo qualche giorni scorsi, in giunta la spesa media per, insomma la spesa, conosco quella della Fano, è 89 euro per persona. La data non è banale. Se lo parliamo in Italia, in alcuni casi è il doppio della media di alcune zone, poi sono migliori per carità. Però è un'altra risposta importante, è chiaro che non è mai sufficiente. Ecco, allora anche questi processi, questi percorsi devono essere un'ottimizzazione per migliorare sempre più. E siamo convinti. Ah ecco, l'ultima cosa. L'altra sfida è quella della prossimità. Abbiamo visto anche con alcuni servizi che sono nati recentemente. Prima erano concentrati tutti, sempre, nelle zone più grandi e anche la pandemia che abbiamo vissuto ci ha insegnato cosa significa la prossimità, come fare la differenza molte volte tra verla e non averla. Anche questo è un altro elemento che sta dentro questo percorso. Quindi mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, tutte le amministrazioni comunali, tutti i soggetti dalle rappresentanze sociali, dal terzo settore, dalle associazioni, dai sindacati e ovviamente dalla struttura, dall'ufficio delle politiche sociali, dall'ufficio di ambito, dalla direttrice e grazie anche al Presidente Tinti che ha avuto la delega e quindi io adesso faccio il bello, ma il lavoro lo avete fatto voi. Quindi è giusto anche un ringraziamento per le donne e gli uomini che ci hanno lavorato e ci lavorano. Grazie a Silvio di Massimo Seri. Do la parola al Presidente dell'Ambito, Dimitri Tinti. Allora, innanzitutto mi fa molto piacere e se mi permettete anche un sospiro di sollievo, perché, come hanno detto chi mi ha preceduto, è stato davvero un percorso complicato, come del resto la partecipazione è sempre complicata e quindi questo chiaramente non deve essere né un alibi per chi la fa e chi la promuove, ma deve anche essere un incentivo a migliorare rispetto a quello che si è fatto finora. Però davvero il ringraziamento è doveroso, l'hanno già fatto, ma davvero a tutti coloro che hanno dato un grande contributo. Io penso che questi mesi, perché poi alla fine siamo partiti con la prima riunione a metà giugno dello scorso anno, poi c'è stato uno slittamento dopo l'estate, ma ci sono stati vari incontri chiaramente più intensi, più concentrati tra gennaio e febbraio in questi ultimi due mesi, ma anche tra l'altro accogliendo nell'ultimo incontro plenario, se non ricordo male, del 18 febbraio anche la volontà e l'espressione e la condivisione anche con le organizzazioni sindacali e il terzo settore che era presente, erano presenti circa 60 soggetti anche nell'ultima seduta plenaria, quindi anche il numero conta, chiaramente conta poi anche la qualità della partecipazione, che è stata credo importante, perché questo piano è davvero il frutto di una sintesi di proposte che sono arrivate e che troverete, trovate, perché davvero, come diceva il sindaco, questo è un cantiere aperto, un work in progress, non è un piano e non può esserlo, assolutamente, lo vediamo tutti i giorni, un qualcosa di esaustivo, che comprende tutto e fotografa solamente l'attualità, chiaramente la sta fotografando, ma si può occupare anche di quello che poi sarà il percorso. Questo è un piano processo, come abbiamo scritto anche nel piano che poi trovate nelle cartelline, ma tutto il materiale, le proposte delle organizzazioni sindacali, le proposte che sono venute da diversi, ne vedo alcuni anche qui presenti, enti del terzo settore, cooperativi e sociali, sono i verbali dei tanti incontri fatti, poi su questo dirà meglio la coordinatrice d'ambito, che tra l'altro ringrazio, perché poi l'opera è materialmente poi la sua, perché poi questa capacità anche di sintetizzare il tutto e metterlo poi è un lavoro anche tecnico che ha impegnato e ha sottratto, chiaramente era inevitabile perché non ci si può dividere dal lavoro quotidiano, ma questo è un lavoro straordinario che ci accompagnerà e ci deve accompagnare nel quotidiano. Lo deve fare perché appunto come cantiere aperto, come work in progress, deve acquisire anche l'implementazione che ci arriva di continuo, anche con le proposte, anche nei tavoli, perché la metodologia sarà sempre quella permanente, questo è venuto fuori in tutti i tavoli, da quelli trasversali, sapete su questo c'è stata anche qualche polemica, le polemiche sono il sale della democrazia e vanno benissimo, le accogliamo e cerchiamo anche di far meglio, servono anche per questo, però ecco l'impostazione, perché poi come ci è stato detto anche ieri c'è stato un convegno importantissimo al quale molti di voi erano anche presenti, con tra l'altro più di 100 persone, 100 persone, ma anche realtà rappresentate dell'organizzazione del volontariato, delle associazioni di promozione sociale, su un tema che oggi è preeminente, che è quello dell'iscrizione al registro unico del terzo settore, addempimento che è fondamentale anche per essere riconosciuti. Ecco, ieri erano presenti due esperti nazionali coinvolti dal Ministero, collaborano, uno di questi ha collaborato anche alla riforma del terzo settore, entrambi collaborano con l'Anci Marche e con l'Anci Nazionale, cosa che appunto anche questo patrocinio e questo accompagnamento ci fa molto piacere, però ecco anche ieri è stato rappresentato proprio cos'è il senso della coprogrammazione come percorso di accompagnamento, di condivisione, di amministrazione condivisa come ormai ripetiamo più volte, ma che va sostanziata in maniera concreta e che chiaramente non è codecisione come qualcuno si è premonito appunto di precisare, ma è appunto coinvolgimento, partecipazione attiva e anche investire energie, risorse, idee, contributi che poi porta a una coprogettazione. Prima il sindaco parlava che entriamo proprio nel concreto, credo tu facessi riferimento alla coprogettazione sul dopo di noi che è stata una coprogettazione virtuosa, ne faremo altre anche utilizzando le risorse del PNRR più nell'entroterra perché quella era su Fano, ma per darvi anche un esempio concreto di cosa vuol dire avere e andare avanti sulla metodologia di confronto permanente perché i tavoli saranno permanenti, chiaramente sono aperti, non vuol dire che quelli che oggi ne fanno parte saranno sempre quelli, potranno entrare anche nuovi soggetti, però per darvi una concretezza l'emergenza che ha fatto bene il sindaco a ricordare anche come monito rispetto e come pensiero anche a chi oggi, noi siamo qua, ma a chi sta in realtà molto 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 più complicate, molto più difficili. Proprio per affrontare questa emergenza abbiamo già messo in piedi una coprogettazione con quel tavolo, con i soggetti del tavolo immigrazione. Ieri c'è stato un incontro con l'ufficio di piano, lunedì mattina ci sarà il tavolo di coprogettazione con i soggetti che ne fanno parte, proprio per cercare insieme con il coordinamento dell'ambito e anche in stretto contatto con la prefettura, di dar vigore e sostanza alla rete dell'accoglienza che chiaramente in queste ore diventa sempre più importante. Però ecco, ognuno fa il suo pezzo, la sinergia, la corresponsabilità, ecco questo è uno delle direttrici del piano, sono tre fondamentalmente, poi lo trovate anche nel piano e anche nella mia introduzione, che chiaramente è un'introduzione, l'ho firmata io, ma è un'introduzione che viene condivisa con tutti i sindaci, gli assessori, gli amministratori presenti, che tra l'altro ringrazio perché davvero anche durante la pandemia abbiamo instaurato una modalità, qualcuno magari impegnativa perché è frequente, noi ci siamo visti per un periodo ogni 15 giorni, cosa che prima non avveniva, chiaramente anche utilizzando le modalità che ci sono state messe a disposizione e quindi abbattendo anche le distanze, anche se rimango dell'idea che questi incontri in presenza in cui ci si vede negli occhi direttamente a più dimensioni hanno un altro spessore e un altro valore. Però ecco, quindi questo per dire insomma in cosa consiste, quella introduzione è la sintesi e vuole un po' esprimere le volontà, le intenzioni, il pensiero di tutto l'ambito, quindi di tutti i nove comuni, ormai noi non parliamo, anche noi di Fano, soprattutto noi di Fano dobbiamo sempre di più parlare non più di comune quando si parla di politiche sociali ma di ambito territoriale, le politiche sociali vanno sempre di più verso quella direzione, l'abbiamo dimostrato anche nell'ultimo anno e appunto negli ultimi tempi perché di gestioni associate concrete ne abbiamo messe in campo diverse, tra l'altro alcune ci hanno consentito, chiaramente a Fano che è più grosso un po' di più, agli altri in proporzione, anche risparmi di risorse perché le gestioni associate consentono di qualificare il servizio alzando il livello della prestazione ma anche abbassando i costi pur mantenendo anzi in molti casi aumentando le ore, esempio sull'assistenza domiciliare, sul servizio di educativa domiciliare ma poi mettendo in campo anche perché insieme si possono mettere in campo anche progettazioni, progettualità innovative. Ecco, oltre alla corresponsabilità tra pubblico e privato sociale, che è un punto fondamentale del piano, c'è il tema dell'innovazione sociale, di progetti innovativi ne stiamo mettendo in campo, quello del dopo di noi, vita indipendente, poi adesso tutti quelli che saranno collegati anche per quelle possibilità che ci sono offerte, quelle opportunità anche col PNRR e come diceva il sindaco perché il mio sindaco, perché qui di sindaci ce ne sono diversi, nel passaggio fondamentale a un welfare sempre di più generativo. Noi stiamo cercando di portare l'ambito, quindi il modello nuovo dell'ambito sarà questo, il welfare territoriale dovrà essere generatore di risorse perché con le coprogettazioni si riesce anche a mettere in campo enti del terzo settore che investono anche materialmente, se non sono risorse finanziarie sono risorse umane, strumentali e quindi si crea anche valore, si crea una cultura nuova di servizi, dei servizi sul territorio. Questo produce anche innovazione sociale perché appunto i progetti innovativi e le progettualità innovative che sono sempre di più rispondenti o almeno si cerca di andare verso quella direzione ai bisogni che sono sempre in evoluzione, sempre crescenti. Poi la pandemia chiaramente ci ha insegnato appunto che anzi diverse cose forse ancora le dobbiamo ancora vedere come ricadute concrete ma il paradigma cambia completamente. Lo diceva benissimo Massimo Seri prima, la prossimità ha un altro approccio rispetto a quello che conoscevamo prima. Pensate al distanziamento che abbiamo vissuto e questo deve darci sempre di più lo stimolo di andare verso interventi sempre di più fruibili e accessibili. Lo stiamo facendo con tanti servizi, su questo proprio, sui servizi di prossimità sono partiti, stanno partendo, la prossima settimana saremo a Pergola a presentare alcuni degli interventi che abbiamo fatto, che abbiamo messo insieme con la coprogettazione sui cosiddetti interventi o servizi di prossimità. Sono interventi sul sostegno linguistico, sull'aiuto ai compiti, dopo scuola, tra l'altro tutto questo anche implementando un progetto sperimentale importante che è il Pippi, che è un acronimo, Pippi richiama il personaggio Pippi Calzelung, ma è un acronimo che sta per programma di intervento per la prevenzione all'istituzionalizzazione, si rivolge ai bambini e quindi al sostegno alla genitorialità per evitare o scongiurare il rischio dell'allontanamento dall'ambiente domestico e familiare. Anche su questo siamo da tempo, da anni, stiamo portando avanti un progetto pilota nelle Marche perché il nostro è uno degli ambiti più avanti anche su questa progettualità, che è una progettualità che vede coinvolto non solo il Ministero, ma l'Università di Padova come contributo scientifico e che sta mettendo insieme anche un metodo che secondo me deve essere il metodo che poi si trasferisce anche nelle politiche sociali altre, perché non solo in quel settore lì, in quello dei minori e delle famiglie vulnerabili, che è quello di una visione sempre di più ecologica della persona, cioè la persona va messa al centro, è chiaramente il punto importante, ma va considerato in un ambiente, l'ambiente in cui vive, i legami, le relazioni che ha tutti i giorni. E quindi ecologica nel senso appunto di ambiente. L'altra cosa, questo ci porta chiaramente a un approccio sempre di più multidimensionale e il Pippi come metodo di lavoro ce lo insegna perché mette insieme i servizi sociali, i servizi sanitari territoriali, le scuole, gli operatori, il terzo settore molto presente. Ecco, questo ci ha consentito appunto di mettere in campo anche progettualità nuove che vanno a integrarsi con questi percorsi, i servizi di prossimità come dicevo sono questo, ma sui servizi di prossimità stiamo mettendo in campo anche altri servizi, quelli di assistenza leggera per le persone sole o isolate, anziani soprattutto, il trasporto sociale e sociosanitario, la rete di solidarietà alimentare e del riuso utilizzando un progetto che anche quello nasce da una coprogettazione con due enti del terzo settore che si chiama rete passamano. Ecco, insomma gli strumenti ce li abbiamo, credo le capacità ci sono perché il territorio è un territorio molto dinamico, guardate mi è capitato anche ultimamente di sentire al telefono, poi ci siamo anche incontrati con il nuovo presidente nonché assessore al welfare di Pesaro, adesso i confronti sono sempre un po' però mi diceva anche al telefono che noi abbiamo, ma fanno anche tutto il territorio, da sempre è un po' così caratterizzato, una dinamicità sociale molto importante, oltre che come ambito siamo più di 100.000 abitanti quindi superiamo altri ambiti più piccoli e questo chiaramente è una complessità che va gestita ma è anche una grande risorsa, è una risorsa che appunto nella logica della corresponsabilità della coprogrammazione va messa in campo, è una sfida per il terzo settore, ieri ci è stato detto in maniera abbastanza chiara, concreta anche dal dottor Luciano Gallo ma anche dal dottor Gabriele Sepio che erano i due esperti nazionali che erano presenti perché davvero è una sfida per il terzo settore che deve cogliere. Noi come parte pubblica cercheremo come ambito chiaramente ma come comuni anche cercheremo di stimolarla, di accompagnarla ma per il terzo settore è davvero un modo anche di essere attivo, presente, partecipe direttamente nelle progettualità che devono essere frutto di sinergie virtuose. Questo chiaramente cosa porta? Che porta anche un grande lavoro, noi abbiamo come personale questa logica che ormai tra l'altro convenzione che regola l'ambito che a fine anno si chiude quindi stiamo accompagnando anche su questo ed è stato molto importante il confronto ma che andrà avanti, non si è esaurito sia con gli organismi rappresentativi del terzo settore ma anche con le organizzazioni sindacali sul nuovo modello, sul nuovo modello organizzativo sapete insomma che c'è una prevalenza che i sindaci hanno già espresso senza formalizzarla ma quantomeno a livello di volontà politica verso l'azienda di servizi alla persona è un'azienda pubblica costituita dai comuni che consente anche l'ingresso eventualmente anche di enti del terzo settore adesso io non vedo qui presenti ma per dire la fondazione di comunità che da noi tra l'altro ce ne sono due c'è anche la fondazione di comunità liberamente che si è da poco costituita ma la fondazione di comunità Fano, Flaminia e Cesano, credo ci sia qualcuno anche collegato che ieri ha appunto organizzato anche questo convegno sul terzo settore e che è un ente filantropico ma un ente del terzo settore fondamentale che può davvero dare, può essere uno strumento importante al fianco della parte pubblica e appunto questo modello lo dobbiamo costruire insieme lo dobbiamo fare perché l'ambito ad oggi è per certi versi funzionale perché il modello organizzativo è stato rivisto completamente il fatto della convenzione con delega forte al Comune di Fano ci ha consentito anche di unificare la figura del dirigente con la coordinatrice d'ambito questo è importante perché ha messo a disposizione di tutto il territorio tutta la struttura che il Comune di Fano ha con i servizi sociali perché io tra l'altro vengo e ho fatto un'esperienza in un Comune piccolo come alcuni di questo territorio so qual è la difficoltà con il personale con figure che sono spesso miste perché non si occupano solamente di servizi sociali ma di tante altre attività, funzioni o servizi ecco, chiaramente questa messa a disposizione del territorio deve essere però finalizzata anche a un modello che sia davvero autonomo, flessibile, che abbia personalità giuridica cioè quindi che abbia una sua autonomia statutaria economico contabile, amministrativa e questo chiaramente è il modello che insieme ripeto ai tavoli del terzo settore e delle organizzazioni sindacali stiamo cercando di costruire ieri abbiamo fatto anche un gruppo riunito di nuovo il gruppo operativo perché c'è uno studio di fattibilità che sta andando avanti che si sta implementando e andiamo davvero verso quella direzione da ultimo permettetemi di dicevo c'è una complessità che è rappresentata dal territorio c'è una complessità anche per il lavoro svolto e che si sta svolgendo e che svolgeremo perché comunque sia anche il personale ha difficoltà nel senso che c'è grande qualità grande professionalità ma abbiamo bisogno anche di essere potenziati questo è anche un'autocritica che vale soprattutto per Fano ma davvero c'è bisogno di accompagnarlo per cercare di arrivare verso un modello organizzativo che sia funzionale a dare risposte il più possibile appropriate questa è la cosa fondamentale l'appropriatezza perché i bisogni vanno interpretati grazie anche a chi opera tutti i giorni sul campo ma poi vanno interpretati al meglio per cercare di dare risposte puntuali appropriate e anche soprattutto rapide perché oggi non ci possiamo permettere più di perdere tempo lo vediamo tutti i giorni i bisogni vanno accolti in maniera appunto da rendere con interventi fruibili e accessibili ma davvero con risposte rapide e per fare questo ecco chiudo con questo io abbiamo messo una l'avrete visto una citazione che un po' dà il senso che è nella prima pagina del piano richiama una frase di Adriano Olivetti alla quale io sono personalmente anche per formazione mia professionale mi sono sempre un po' legato che insomma noi abbiamo nell'ambito e anche nel territorio quindi nella struttura capacità coraggio e voglia ecco sono tre per trasformare davvero quella che può essere può apparire un'ambizione un'utopia ma per trasformarla in un sogno che poi è sogno concreto perché ci lavoriamo insieme ci lavoriamo grazie alla voglia davvero alla capacità e al coraggio che tanti e quindi tutti quelli che sono qui presenti e altri che ci seguono da da casa hanno messo in campo in questi mesi e credo e sono convinto che metteranno in campo anche nei mesi futuri perché di sfide ne abbiamo ancora tante alcune ne ho anticipate ma davvero sono se uno ci pensa davvero possono apparire come un'utopia ma sono un sogno concreto che possiamo realizzare solo grazie a queste qualità quindi coraggio capacità e soprattutto voglia di fare e di lavorare insieme grazie 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 Presidente Tinti prima di cedere la parola alla dottoressa Galdenzi per l'esposizione di queste schede di queste slide un breve saluto da parte dei sindaci presenti partendo dalla sindaca di Pergola Simona Guidarelli grazie sì io ringrazio tutti credo che questi percorsi partecipativi veramente siano fondamentali lo sono tanto più quando parliamo di sociale quando parliamo di persone quando ci rivolgiamo alle esigenze che i nostri cittadini hanno e credo condivido in pieno quello che prima il sindaco Seri ha detto insomma quello a cui ha fatto riferimento questa pandemia ci ha insegnato ci ha lasciato proprio delle delle esperienze dirette importanti ci ha insegnato come sia fondamentale essere vicini ai cittadini anche proprio fisicamente logisticamente quindi questa prossimità questo far sì che le istituzioni i servizi vadano proprio a diretto contatto a casa del cittadino credo che sia fondamentale sia importante ed è uno sforzo che tutti noi vogliamo fare è un obiettivo che vogliamo raggiungere per far sì che i servizi che si riescono a derogare a portare ai nostri cittadini siano migliori siano più efficaci più efficienti quindi senza ripetere altre altre cose altri concetti che sono stati già ampiamente enunciati anche dal presidente credo che ecco una riflessione quella che io facevo venendo qui questa mattina è proprio quanto sia fondamentale veramente fare questo sforzo tutti insieme per arrivare più vicini possibili al cittadino soprattutto ecco quando parliamo di persone fragili o di persone che hanno maggiori difficoltà così come credo sia importante questa unione tra comuni tra istituzioni che vivono realtà completamente diverse da comuni più grandi con esigenze che sono diverse rispetto a quelli di comuni più piccoli o comuni che vivono nell'entroterra però questa diversità questa differenza credo che possa veramente diventare una ricchezza maggiore per tutti l'esperienza che ognuno di noi ha così come in altri settori così come nella vita quotidiana in fondo diventa comunque una ricchezza poi condivisa da tutti quindi il percorso che stiamo facendo ecco come sindaco come amministrazione lo condividiamo in pieno deve essere sicuramente più partecipativo possibile e andare in questa direzione che quella che come diceva prima anche il presidente di condivisione è sempre difficile può trovare delle difficoltà ma credo che sia la più efficace la più efficiente soprattutto nel settore dei servizi di cui stiamo parlando nel sociale ecco ancora di più rispetto ad altri argomenti sui quali ci troviamo spesso a lavorare insieme qui credo che sia proprio indispensabile veramente grazie grazie la parola e il microfono a Davide Dellonti sindaco di San Lorenzo in campo sì grazie grazie a tutti grazie per questa opportunità intanto e grazie a chi ha lavorato effettivamente al piano parlo di Dimitri Tinti parlo di Roberta Caldenzi e tutti gli enti del terzo settore associazioni fondazioni sigle sindacali e quant'altri che hanno avuto modo di metterci veramente mano credo che questa occasione ci dimostri il cambio veramente di passo rispetto a quello che è stato in precedenza chi oramai ha qualche diciamo qualche anno sulle spalle come amministratore qui siamo in tanti avrà visto qual è la modifica che c'è stata rispetto al passato ci ricordiamo delle riunioni ci ricordiamo dei comitati di sindaci dell'ambito in cui i problemi erano ben altri c'erano altre questioni da sistemare ma soprattutto c'era una progettualità diversa oggi è veramente una piccola direi rivoluzione quella che viene fatta con il piano territoriale sociale dell'ambito 6 di Fano nel quale non si danno più risposte singole ad alcuni problemi come spesso e volentieri nei comuni in tutti i comuni ma soprattutto questo accadeva nei piccoli maggiore preponderanza anche nei piccoli comuni non si dà una risposta singola all'esigenza ma si dà una risposta corale questo è un cambio importante che intanto dobbiamo fare nostro noi come amministratori i nostri uffici non è una cosa semplice non è una cosa semplice ma è un passaggio passaggio epocale direi importante e quindi si va a creare quello che è una e qui lo vedremo in quello che è stato fatto si va a creare una mappatura di quello che sono i bisogni le necessità delle nostre comunità a tutti i livelli perché per esempio vi invito a leggere quello che è anche uno dei capitoli che riguarda i giovani spesso e volentieri difficilmente si riusciva come ambito sociale ma come servizi sociali in generale direi ad avere un'attenzione alle esigenze dei giovani e di alcune fasce di età alle quali si rispondeva semplicemente con i servizi educativi con quello che era la scuola la mensa il trasporto scolastico eccetera quindi quello che è la contingenza quotidiana qui c'è un cambio di passo anche su questo e quello che è importante come è stato detto prima da qualche mio collega in precedenza i comuni gli enti locali non possono fare tutto da soli non possono arrivare dappertutto c'è bisogno degli enti del terzo settore c'è bisogno delle associazioni del volontariato delle sigle sindacali di tutti quanti che insieme si riesce invece insieme a tutti a tutti loro i comuni e le comunità hanno delle risposte quindi questo è il cambio di passo verso il quale si andrà bene è stato detto prima la presentazione di alcuni servizi che verranno a Pergola il quale anche il comune di San Lorenzo in campo partirà insieme proprio a Pergola anche per l'aiuto compiti alcuni dei servizi per la fascia d'età dell'infanzia della pre-adolescenza e anche perché come magari è stato ricordato i fondi non arrivano più i singoli comuni non sono dei fondi indivisi dei fondi generalizzati con cui dare degli aiuti e pioggia ma sono dei fondi di ambito che vanno progettati quindi quello che è una parola veramente su cui puntare è progettazione e questo è il lavoro che credo sia stato egregiamente fatto da tutti quanti noi grazie ancora grazie Davide la parola Giovanni Breccia sindaco di Montepozio sì sarò sarò telegrafico così riusciamo a lasciare un po' di tempo anche Roberta ma più che altro mi allineo a quello che ha detto Davide perché anche io sono al secondo mandato come sindaco e quindi veniamo da un periodo passato in cui le difficoltà erano altre e prima quello che ha detto Dimitri ci viene riconosciuto come ambito di essere avanti su alcuni progetti su alcune idee su alcune progettualità prima eravamo indietro su tutto praticamente quindi ecco per noi come sindaci come assessori come amministrazioni chiaramente avere un ambito che funziona e che va avanti è davvero di grosso conforto e di aiuto nelle tante problematiche che abbiamo quindi un ringraziamento va a Roberta a Dimitri che chiaramente hanno a che fare con nove sindaci nove assessori Roberta con nove uffici dei servizi sociali quindi è davvero estremamente complesso e alcune volte anche una banalità ma vedersi tutti insieme in una data diventa un ternallotto mettersi tutti insieme quindi non è per nulla banale e un ringraziamento anche a Massimo a Fano perché in realtà su questo aspetto del sociale dell'ambito sociale dobbiamo essere onesti ci ha puntato in pieno per avere un un ambito sociale che sia davvero dell'ambito e di tutte le ballate che ne fan parte insomma quindi il cambio il cambio di passo è stato è stato importante quindi lo lo riconosciamo e lo apprezziamo tanto il lavoro è ancora tanto da fare di sicuro quindi insieme insomma possiamo possiamo riuscirci grazie grazie Giovanni la parola Nicola Barbieri Sindaco di Mondo Sì grazie a tutti intanto saluto i presenti ringrazio il Comune di San Costanzo per l'ospitalità e ringrazio anche il Comune di Fano per aver organizzato qui a San Costanzo questo incontro e questo momento di presentazione perché rappresenta un segnale importante che l'ambito sociale oltre che avere come Comune Capofila Fano però è un ambito che si apre ai territori e sempre non voglio tediarvi perché si è già detto tanto e poi lasceremo la parola per la presentazione appunto di questo piano che è stato un piano davvero partecipato vi ci tengo però a ringraziarvi come hanno fatto tutti gli altri per a Dimitri e a Roberta per il lavoro svolto e per i tanti soggetti che sono stati coinvolti si poteva fare meglio forse forse sì però quando c'è da coinvolgere le persone come si diceva prima non è mai sempre facile trovare poi la sintesi credo che la sintesi poi sia stata trovata ci siamo scontrati abbiamo condiviso diversi aspetti abbiamo messo in campo tante professionalità quindi ci tengo a ringraziare anche i tanti tecnici del comune di Fano ma anche di tutti i comuni qui presenti che si sono messi a disposizione ognuno di loro ha dato il proprio punto di vista e la propria esperienza per far crescere e per sviluppare al meglio questo piano territoriale ci tengo anche io a sottolineare la qualità del servizio è migliorato tanto l'ambito sociale lo vedono anche chi ne esufruisce vede di questo miglioramento e quindi siamo soddisfatti anche noi come comune di Mondolfo ringrazio oltre che ai miei colleghi sindaci anche gli assessori qui presente l'assessore Andreoni del comune di Mondolfo ma anche gli assessori degli altri comuni che ogni settimana ci sono incontrati per arrivare a questo piano e si incontrano costantemente per dare il loro contributo per una finalità importante che è quella dell'ambito che nessuno deve rimanere indietro questo è un aspetto molto importante che dobbiamo continuare a perseguire sicuramente ci saranno delle sfide sicuramente questo delle nuove sfide da affrontare questo piano territoriale come si diceva prima è un cantiere aperto quindi dovremo poi apportare anche delle modifiche ai vari cambiamenti che troveremo in questo percorso in futuro però credo che sia un buon punto di partenza quindi continuiamo insieme a collaborare abbiamo visto quanto è fondamentale unirsi come comuni anche nelle progettazioni nella presentazione di bandi adesso ci sono le sfide legate al PNRR quindi essere insieme andare nella stessa direzione fa bene ai nostri cittadini e ai nostri territori grazie la parola alla coordinatrice d'ambito Roberta Gandenzi grazie a tutti per essere qui oggi e un ringraziamento da parte mia ovviamente a tutta la struttura che mi ha in qualche modo supportato in questi due anni e mezzo di intenso lavoro dove devo dire che veramente ognuno ha messo non solo professionalità ma ha messo anche tanto passione tanta dedizione rispetto a una grande difficoltà che abbiamo dovuto conoscere un po' dall'inizio di questo ambito che io ho avuto diciamo da due anni e mezzo l'onore di in qualche modo coordinare il che cosa siamo dopo due anni e mezzo lo trovate sostanzialmente nelle prime pagine del piano sociale sicuramente siamo riusciti a tutti insieme a costruire tanto probabilmente siamo riusciti a comunicarlo poco questa è l'occasione ed è stata l'occasione anche per noi di vedere nero su bianco tutta la grande fatica che siamo riusciti a portare nei territori attraverso quindi servizi attraverso percorsi insieme e quindi anche per noi questo è stato un momento decisamente importante importante per tutto quello che abbiamo fatto è un piano che risente del covid ovviamente quindi si troverà all'interno del piano spesso il passaggio all'emergenza covid-19 ma non solo nel fotografare chiaramente i servizi che nel 2020 rispetto al 2018 e al 2019 hanno avuto una diciamo una costrizione una restrizione nell'erogazione perché ovviamente tre mesi di pandemia hanno bloccato tutti i servizi individualizzati e molti anche dei servizi diurni offerti sui territori quindi se vogliamo proprio cominciare a guardare nel dettaglio quelle che sono diciamo i dati della spesa sociale che sono comunque dati che per noi sono stati importanti che ci hanno detto che in realtà questo territorio dell'ambito è un territorio che ha una spesa sociale che è allineata con quelli che sono che sono le medie nazionali rispetto alla spesa sociale pro capite ha chiaramente in un contesto che è anche abbastanza territorialmente diverso di un comune come Fano che ha oltre 60.000 abitanti rispetto chiaramente a un comune come Fratterosa che ne ha invece poco più di 900 una dimensione di spesa sociale che chiaramente risente anche della diversa dimensione territoriale ma che tuttavia ci dice che il tema dell'aiuto e del sostegno alle fragilità è presente ed è presente con un intervento significativo in ognuno dei nove comuni il forse se come dire si può osservare un dato al di là del comune capofila che è il comune di Fano che ha sicuramente una storia che parla di un intervento sul sociale di particolare valore di particolare pregio cosa che grossomodo lo colloca quindi in una dimensione di spesa sociale pro capite che è come diceva prima il sindaco seri quasi doppia rispetto alla media italiana abbiamo un altro dato guardando la tabella che subito come dire però ci deve far fare una riflessione abbiamo il comune di Mondavio che ha una spesa sociale pro capite di 100 di oltre 103 euro a soggetto ma che dietro a questo dato in realtà cela una forte come dire una forte incidenza di questo valore rispetto ad una gestione diretta di un centro diurno per disabili allora questa occasione per noi è stata anche un'occasione insieme con alcuni sindaci e con gli assessori di provare a riflettere su una diversa modalità di non di erogazione dei servizi ma di come immaginarci di gestire quei servizi perché perché vedere che un territorio ha una fortissima incidenza per un solo servizio a beneficio di 16 persone a fronte del fatto che magari non riesce a dare risposte su altri servizi individualizzati perché chiaramente la capacità che ha finanziaria è profondamente assorbita da un unico intervento ci deve far immaginare che quell'intervento particolarmente forte ed impatto sul bilancio di quel comune deve essere spalmato in modo diverso quindi l'occasione del piano sociale come si diceva prima è per mettere poi in moto ulteriori riflessioni che dovremo in qualche modo sviluppare con i singoli territori non certo per privare di servizi ma certamente per rendere più sostenibile la erogazione dei servizi e soprattutto ampliare il più possibile l'offerta dei servizi questo in tutti i territori perché partiamo comunque da una dimensione che al 2019 che è un po' la data che noi abbiamo preso come riferimento come anno medio perché il 2018 abbiamo preso sostanzialmente il triennio 2018 2019 2020 ma il 2020 chiaramente non è un dato che può fare media quindi abbiamo ritenuto che il dato medio potesse essere calcolato con riferimento al 2019 se noi prendiamo la tabella dei servizi che in qualche modo nel 2019 erano presenti ci sono dei servizi che in alcuni comuni non sono presenti noi non abbiamo al 2019 un'assistenza domiciliare agli anziani presenti nel comune di Fratterosa presente nel comune di Mondavio presente nel comune di Pergola San Lorenzo in campo e terre roveresche oggi oggi noi sappiamo che mettendo in campo le risorse che il fondo nazionale non autosufficienza ci dà come ambito per gestire direttamente il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti oggi noi sappiamo che quel bisogno c'era sul territorio non era stato espresso non era emerso forse non era stato accolto forse non c'erano le condizioni per accoglierlo oggi abbiamo utenti che in quei comuni beneficiano di quei servizi quindi è chiaro che c'è una dimensione che da una parte probabilmente è agevolato da una presenza di un servizio sociale professionale che oggi è in tutti e nove i comuni il servizio sociale professionale è un livello essenziale va garantito in tutti i comuni e noi una delle prime scelte che abbiamo fatto all'interno del comitato dei sindaci è stato proprio quello di investire le risorse del POR 9.4 Fondo Sociale Europeo per garantire in tutti e nove i comuni la presenza dell'assistente sociale il fatto che sul territorio ci sia un assistente sociale non è solo un'osservanza di un obbligo di legge ma è un dare al territorio un punto di ascolto importantissimo che poi chiaramente nell'emergenza covid è diventato un presidio fondamentale non solo per ascoltare ma anche per dare risposte concrete durante due anni e mezzo di pandemia noi abbiamo gestito tutta la rete dei servizi grazie alla rete professionale diffusa grazie al fatto che avevamo appunto i riferimenti sul territorio e vorrei anche come dire portare questa informazione che è proprio dell'ultima ora nel senso che siamo stati contattati proprio ieri mattina ci hanno chiesto di andare il 24 marzo a Roma a portare come eccellenza di un servizio gestito in emergenza il nostro la nostra esperienza dei voucher spesa con la tessera sanitaria quindi c'è stato chiesto di andare a Roma a portare insieme con il comune di Bologna siamo le due città italiane che porteranno questa esperienza come caso di eccellenza di gestione in emergenza covid quindi questa cosa allora fu possibile perché comunque siamo riusciti a gestire tutto quanto insieme stando insieme e arrivando ovunque al cittadino di Fratterosa come al cittadino di Fano questo è la risorsa che il covid ha messo in grande evidenza nessuno basta più a se stesso questo vale per il più grande quanto per il più piccolo quindi la risorsa sta nello stare insieme e su questo appunto oggi noi siamo qui a dirci che non possiamo scegliere se associarsi o non associarsi l'ambito non è altro che una gestione associata di servizi quindi la sfida è qual è il modello migliore per essere massimamente efficienti per essere massimamente anche come dire economici rispetto a quello che dobbiamo fare ma non è una strada da cui si può tornare indietro non si può immaginare una funzione sociale che sia gestita singolarmente dai comuni ce lo dice il PNRR che assegna le risorse degli investimenti e dei progetti della missione 5 soltanto agli ambiti i quali sono i beneficiari i quali sono i responsabili dell'utilizzo delle risorse e quindi la strada ormai è inesorabilmente tracciata questo piano è una sorta di scatola cinese nel senso che all'interno di questo piano c'è un altro grande cantiere che è proprio il cantiere che dicevano prima i sindaci e il presidente il cantiere dello studio di fattibilità del che cosa vogliamo diventare e che è stato l'oggetto di quel tavolo di sistema così mi piace chiamarlo che ha visto insieme quindi sia i sindacati sia il tavolo i soggetti rappresentativi del terzo settore a livello regionale in qualche modo volendoci volendo condividere i modelli possibili modelli che l'ordinamento prevede per una gestione associata cercando chiaramente di trovare una soluzione coerente rispetto a quelli che sono stati comunque i principi e le scelte che politicamente i nove sindaci hanno ritenuto di fare cioè di immaginarci di approfondire un percorso un percorso che potesse capire davvero in modo concreto e fino in fondo se una scelta fatta due anni fa anche come dire non tanto sulla conoscenza specifica quanto andando un po' in via residuale scartando altre ipotesi e quella appunto dell'azienda di servizio alla persona potesse essere sostenibile lo studio di fattibilità che qui chiaramente costituisce quindi una parte importante di quello che è il consolidamento della TS è stato illustrato nella sua forma come dire davvero di proposta di bozza è stato illustrato e condiviso con quindi in due tavoli in due occasioni con il tavolo che vi dicevo prima di sistema tra l'altro da quel tavolo sono davvero venute delle osservazioni estremamente interessanti proprio sulla presenza da un punto di vista iniziale quindi dagli atti costitutivi del terzo settore all'interno di un'eventuale ipotesi di ASP e soprattutto devo dire anche con grande benevolenza di qualcuno è stato riconosciuto che quello studio di fattibilità aveva un livello di approfondimento significativo l'incontro di ieri mattina col dottor Gallo è servito proprio a questo sapete che il gruppo che ha in realtà redatto quello studio di fattibilità è un gruppo costituito dai dirigenti interni del comune capofila dove c'è il dirigente chiaramente dei servizi finanziari il dirigente del personale c'è un segretario comunale c'è la sottoscritta e abbiamo quindi chiesto a due figure di particolare valore come il dottor Gallo e Nino Santarelli Giovanni Santarelli detto Nino di accompagnarci con la sua pluriannale esperienza da ex dirigente della regione Marche nella costruzione di questo percorso ieri mattina è emerso che questo studio di fattibilità chiaramente pone anche da parte loro alcune richieste di ulteriori approfondimenti di alcuni aspetti soprattutto perché in questo momento nel tavolo nazionale ci sono delle grandi modifiche in atto sia nel mondo sociale ma anche nel mondo come dire di sistema delle pubbliche amministrazioni e quindi ci hanno chiesto di fare lo sforzo di immaginarci una costruzione di un nuovo soggetto in un momento in cui però qualcosa potrebbe cambiare da qui a quattro mesi da qui a cinque mesi quindi di immaginarci un soggetto flessibile capace di stare dentro la cornice normativa anche in modifi in leggera modifica nell'ordinamento nella parte degli appalti e in tutte queste cose qua ci è anche stato detto e anche qui lo dico perché credo che anche l'organizzazione che mi supporta abbia diritto di avere le soddisfazioni che gli competono che questo studio di fattibilità è andato a finire sul tavolo della commissione nazionale che sta lavorando in questo momento sui modelli di ambito sui possibili modelli di ambito quindi evidentemente qualcosa di interessante al di là di chi mi ha dato i voti ed è stato molto benevolo devo dire che siamo riusciti a scriverlo bene cosa faremo con quello studio di fattibilità faremo incontri cominceremo a fare incontri di settore cominceremo intanto a portarlo all'attenzione del comitato dei sindaci non appena sarà terminato perché quel documento ancorché condiviso diciamo nei contenuti con il tavolo di sistema i sindaci ancora non l'hanno visto quindi è un'occasione anche per loro sindaci e assessori di avere un'illustrazione quindi di quello studio così come è stato poi il frutto dei due incontri che abbiamo avuto con voi e dell'approfondimento quindi che abbiamo avuto ieri con Nino Santarelli e con il dottor Gallo questa è la parte diciamo di sistema quindi non è stato semplicissimo tenere in piedi una parte così importante da un punto di vista dello sviluppo e la parte chiaramente invece più come dire più di risposta ai bisogni delle persone ma questa è la sfida che ci siamo posti e questa è quella che dobbiamo in qualche modo portare avanti il tema del rafforzamento della governance passa necessariamente attraverso regole comuni e condivisione di regole comuni per l'accesso ai servizi anche qui siamo riusciti grazie al grande lavoro che abbiamo fatto con l'ufficio di piano davvero nei mesi del 2020 a approvare un testo unico regolamentare dei servizi socioassistenziali quindi un unico regolamento nel quale contenere tutte le regole di accesso ai servizi individualizzati adesso abbiamo stesse regole tanto per i cittadini di Pergola e Fratterosa quanto per quelli di Fano e tutti quelli che stanno nel mezzo e questo non è stato semplice né comprenderlo né farlo comprenderlo alle famiglie perché la storia dei territori parla di storie che hanno tradizioni storie percorsi completamente diversi non è stato solo difficile accompagnare il percorso quindi dell'introduzione delle regole ma voi capite che quando si va a parlare con le famiglie di concetti come con partecipazione alla spesa dei servizi c'è davvero tanta flessibilità anche da mettere in campo da parte del servizio sociale nell'accompagnare nel dare i tempi giusti a che le famiglie questi concetti li riescano a in qualche modo a metabolizzare per cui oggi con tutti i tempi dovuti per accompagnare questi percorsi possiamo dire che tutti quanti anche il principio della compartecipazione con attraverso lo strumento dell'ISE lo abbiamo portato in tutti i comuni e credo che anche questo sia una garanzia fondamentale di equità nell'accesso ai servizi quindi le regole le abbiamo date le abbiamo condivise e tutti quanti siamo in qualche modo allineati tra l'altro il personale assistente sociale su questo su tutte queste innovazioni di contenuto fanno stanno facendo proprio dei percorsi anche di cosiddetto miglioramento professionale quindi fanno proprio delle sedute delle giornate di approfondimento di quel testo unico per cercare proprio anche a livello metodologico di trasformare in prassi operative poi tutta una serie di dimensioni di norma e quindi di contenuto un po' più nel dettaglio professionale detto questo io direi se siete d'accordo di andare un po' a immaginarci che cosa è emerso durante i tavoli perché poi questo piano al di là della fotografia dell'esistente chiaramente è stato un piano quindi un atto programmatorio che ci deve un po' dire quali sono le criticità dei territori e dove lavorare in prospettiva abbiamo sicuramente una fotografia andiamo un po' per aree di intervento abbiamo una fotografia di servizi sulla fascia anziani che è una fotografia che ci dice che i servizi individualizzati sono particolarmente presenti nelle varie forme sia nella forma di assistenza economica alle famiglie o al beneficiario dove chiaramente c'è una forte un forte indirizzo verso la domiciliarità dobbiamo immaginarci che il futuro sempre più e ce lo dice anche il PNRR dell'anziano non autosufficiente sia verso una dimensione domiciliare quindi dove l'accudimento in casa chiaramente è supportato da tutte le figure professionali necessarie da un'assistenza sociosanitaria adeguata da anche una dimensione chiaramente logistica adeguata ad ospitare un anziano non autosufficiente e rispetto a questo chiaramente il tema qui è fortemente di migliorare il livello di integrazione con la sanità il tavolo anziani il tavolo disabilità il tavolo della salute mentale hanno evidenziato come non ci non ci possa essere un percorso sociale distinto da quello sanitario l'integrazione sociosanitaria in queste fasce di popolazione è essenziale per dare un adeguato livello di qualità del servizio e anche qui mi permetto di dire che se un po' di autorevolezza e se un po' di ruolo riusciamo a in questo momento a manifestarlo nei confronti della sanità sia a livello territoriale distrettuale sia a livello di aria vasta è perché quando ci siamo e quando ci sediamo all'interno dell'Uoses ci sediamo perché siamo nove e perché non siamo più da soli perché chi si siede lì porta il peso di nove comuni e questo fa la differenza fa la differenza quando si ha davanti un distretto quando si ha davanti anche un'area vasta perché comunque le decisioni che si prendono all'interno dell'unità operativa socio-sanitaria integrata si sa già che avranno una ripercussione sui cittadini più di 100.000 cittadini di un territorio esteso quindi anche qui la dimensione associata ha fatto ha permesso un'autorevolezza diversa nei confronti della sanità ma non basta non basta abbiamo costruito tanto durante il covid adesso quell'approccio emergenziale deve diventare strutturato dobbiamo sempre di più far capire ai territori alla sanità che il territorio è una risorsa ma il territorio va chiaramente come dire accudito con una un'attenzione che è quotidiana che è fatta di servizi che devono anche sapersi innovare anche nel contesto sanitario quello che manca nel territorio per la fascia anziani sicuramente è emerso in modo molto forte è il tema della risposta all'Alzheimer una patologia assolutamente dilagante che non trova attualmente nell'unico centro di urno che noi abbiamo presente in tutto diciamo il territorio abbiamo soltanto Fano una dimensione di sufficiente accoglienza i posti sono pochi gli spazi come dire possono anche essere immaginati su territori quindi altri sicuramente il tema quindi del come sollevare le famiglie nel percorso della giornata rispetto ad un accudimento continuo della persona con Alzheimer è un tema che emerge come tema da sviluppare e quindi costruire negli anni a venire il resto chiaramente l'anziano non è per fortuna nostra solo non autosufficiente ma noi siamo una popolazione anziana tra l'altro ecco molto longeva nel nostro caso e abbiamo quindi un anziano come risorsa e quindi ecco il tema del come promuovere questa risorsa e come metterla a disposizione di tutto il restante tessuto della popolazione è emerso e ce l'avevamo già detti che l'esperienza che ha tentato di portare avanti il comune capofila creando un coordinamento territoriale fra tutti i circoli anziani fra tutti coloro che hanno un orto per anziani in realtà ci ha permesso di creare intanto una consapevolezza di una vera propria comunità li ha tirati un po' fuori dall'isolamento anche qui nonostante il covid e soprattutto questo coordinamento permette di elevare anche un po' il livello dell'aggregazione degli anziani che l'anziano piaccia giocare le carte che l'anziano piaccia giocare stare insieme quindi mangiare questo è assolutamente meritevole e va assolutamente promosso anche nel futuro ma ci siamo anche resi conto che ci sono anziani che magari vorrebbero essere coinvolti in una dimensione aggregativa come dire più culturale forse più di approfondimento di alcuni temi magari proprio sul tema della salute di quelli che possono essere anche temi invece che li portano a stare insieme ma a visitare qualcosa di interessante quindi è una dimensione che emerge di un anziano che forse è un anziano un po' diverso rispetto a 15 anni fa 20 anni fa e quindi chiede di poter essere valorizzato in una dimensione aggregativa anche diversa e a quel punto anche diventare ovviamente una risorsa perché è chiaro che se noi ci immaginiamo di poter avere degli anziani che magari fanno una visita guidata a uno dei nostri bellissimi comuni e in quel contesto magari riusciamo anche ad attivare un affido dove insieme a quell'anziano portiamo anche qualcuno dei bambini che noi magari conosciamo nei servizi ma che nessuno mai porta a vedere un museo o a vedere i bronzi di pergola forse siamo riusciti a unire ad una cosa un'altra cosa di valore quindi rispetto a questo c'è tanta anche capacità degli anziani di essere risorsa e noi questa la dobbiamo utilizzare il chiaramente il tema degli anziani poi porta con sé anche un tema di residenzialità nel senso che quando l'anziano non è più gestibile neanche a livello domiciliare perché il livello sanitario chiaramente si complica eccessivamente è emerso anche che su alcuni territori in modo particolare nel comune di Fano i posti di residenza sanitaria sono invece insufficienti a rispondere attualmente alla richiesta perché chiaramente se noi ci dobbiamo immaginare che le residenze protette che ospitano i nostri anziani vanno bene come dimensione diciamo fino a che non diventano particolarmente non autosufficienti ma ci siamo anche detti che dovremo sempre di più tenere gli anziani e che domicilio finché hanno un certo livello quando quel livello è superato sicuramente la risposta più adeguata a quel tipo di bisogno diventa la residenza sanitaria e quindi su questo il nostro territorio è un po' carente quindi anche su questo quando andremo a fare le nostre valutazioni e programmazioni in serie di fabbisogno in qualche modo questo è un elemento di cui tenere conto passando alla seconda invece come dire area che è quella della disabilità anche qui davvero tante forse questa è l'area dove maggiore sono gli interventi individualizzati e di gruppo ma è giusto che sia così perché la storia dei nostri territori parla proprio anche di una grande attenzione alla disabilità abbiamo centri di urni nei territori e anche qui la realtà è invece sicuramente carente nel comune di Fano dove rispetto alla domanda la risposta è insoddisfacente in questo momento e qui mentre invece nei restanti territori c'è una capacità di sostanzialmente azzerare le liste di attesa quindi vuol dire che l'offerta è sufficiente rispetto al bisogno del territorio abbiamo sperimentato già da un paio d'anni l'esperienza del dopo di noi nel territorio di Fano con una coprogettazione adesso vorremmo candidarci con la risorsa del PNRR per cercare di portare avanti un concetto di rete territoriale di dopo di noi ancora una volta ci piace l'idea della rete ci piace di pensare che quello che mettiamo nei territori che realizziamo nei territori in realtà sia tutto coordinato e tutto legato da una dimensione sistemica quindi non localizzata e non isolata il durante noi è la necessaria come dire il necessario affiancamento al dopo di noi non ci si immagina di portare dei disabili delle persone disabili adulte all'interno di una dimensione di un'abitazione senza che le famiglie e senza che loro stessi siano accompagnati a quest'idea è un'idea che richiede mesi forse anche anni sia da parte dei genitori anziani ma sia anche dalle persone che poi devono stabilmente andare a vivere insieme a convivere con un'altra persona disabile all'interno di una casa con un assistente familiare perché il durante noi questo è scusate il dopo di noi questo è quindi bisogna abituarle le famiglie bisogna accompagnarle e anche questo l'abbiamo fatto sul territorio di Fano e ci piace pensare che con il PNRR una quota di quelle risorse dovrà comunque prevedere anche questo accompagnamento i servizi individualizzati sono dall'educativa domiciliare a quello che è invece l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione in sede scolastica quindi per gli studenti con disabilità i tirocini di inclusione sociale come momento di sperimentazione di inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità ma che hanno delle abilità da spendere il tutoraggio che in realtà è un servizio che è necessariamente collegato al tirocinio perché il tutor è il soggetto di riferimento che poi si prende anche cura nei percorsi chiaramente del tirocinio della persona con disabilità il trasporto sociale un altro grande servizio molto richiesto poi abbiamo e qui invece abbiamo come dire una criticità da rilevare cioè negli interventi per la disabilità sensoriale abbiamo dei dati che ci dicono che a fronte di risorse significative che la regione ci assegna abbiamo poche domande siccome non possiamo io continuo a non immaginare che il nostro territorio di oltre 100.000 persone abbia 32 o 33 persone con disabilità sensoriali perché di questo parliamo credo che ci sia un forte problema di comunicazione probabilmente questa misura non si conosce probabilmente questa misura nonostante che siamo addirittura passati attraverso i pediatri di libera scelta i medici di medicina generale perché queste misure sono soprattutto comunque per ragazzini le domande non arrivano ecco allora adesso anche qui è un'occasione per immaginarci una strategia ancora diversa proveremo a capire anche se possiamo agganciare le scuole e fare una comunicazione attraverso le scuole a tutte le famiglie in modo tale che ci arriviamo proprio capillarmente quindi passiamo dal coinvolgimento del servizio sanitario a quello dell'istruzione ma anche questo quindi è stato un dato significativo perché altrimenti si continua sempre a immaginare che non abbiamo persone con questo tipo di disabilità invece io immagino insomma ma fosse altro che le percentuali medie ci dicono che non possono essere queste le percentuali i livelli di percentuale poi abbiamo gli interventi in favore dell'autismo e qui abbiamo sia interventi significativi da un punto di vista del sostegno economico e sia chiaramente poi anche come potenziamento dei servizi individualizzati che vengono fatti a domicilio o nei centri di orni che cosa emerge dai tavoli dai tavoli emerge sicuramente il bisogno di orientare meglio le famiglie rispetto a tutti questi benefici ve lo dicevo appunto adesso quindi in qualche modo creare anche delle dimensioni di informazione e di accesso alle informazioni più sistemico questo che lo si faccia a livello informativo a livello informatico o lo si faccia proprio nei presidi fisici degli uffici di promozione sociale chiaramente vanno bene entrambi i sistemi nel 2022 ma va un po' ripensata proprio anche la modalità di comunicazione il linguaggio le modalità le strategie gli strumenti poi abbiamo chiaramente come vi dicevo prima la richiesta di un rafforzamento con il servizio sanitario quindi un servizio sanitario che su queste tematiche deve stare dentro deve starci fortemente come ci sta come ci sta ma che sicuramente ci deve vedere molto di più nella fase di programmazione ci manca quel tipo di approccio ci manca che quando vengono fatte le valutazioni per orientare dei servizi ci sia anche la dimensione dell'offerta dei servizi in quel momento e questo chiaramente come dire comporta un lavoro costante programmatorio costante fra chi i servizi sui territori li eroga e li conosce ed è la parte sociale e chi invece fa le valutazioni sull'individuo e che è giusto che conosca la dimensione del servizio perché altrimenti si rischia di fare valutazioni che non trovano rispondenza poi adeguata al bisogno sui territori i servizi per la prima infanzia vengono richiesti come servizi che in qualche modo devono sempre di più puntare alla valorizzazione delle abilità che i bambini hanno in quella specifica fascia di età abbiamo già detto della criticità del numero di centri diurni per quanto riguarda Fano e direi che da questo punto di vista ecco ci siamo insomma sono le criticità che vi ho espresso prima rispetto ai servizi che poi devono essere anche ripetuti nei territori del durante noi e del dopo di noi arriviamo alle famiglie famiglia con minori allora qui sicuramente come dire abbiamo abbiamo imparato tanto in questi due anni e mezzo ci ha insegnato tanto essere partner dell'università di Padova e del ministero perché ci ha insegnato a lavorare in un modo diverso ci ha insegnato a mettere al centro il bambino in questo ipotetico triangolo Pippi dove il bambino e la sua famiglia diventano quindi il centro di tutte le azioni dove intorno a questo triangolo ci mettiamo i servizi territoriali ci mettiamo chiaramente nei servizi territoriali tanto la sanità quanto il sociale ci mettiamo la scuola e ci mettiamo tutti i soggetti del terzo settore quindi tutti insieme per dare risposte alle famiglie ai bambini adeguate ai loro bisogni nella direzione di prevenire prevenire il più possibile per quanto sia possibile il disagio nelle sue forme diciamo più più estreme quindi il disagio in qualche modo intercettato in una fase ancora recuperabile che ovviamente evita la fase della istituzionalizzazione quindi tanti tanti gruppi creati tra genitori tra ragazzi abbiamo anche un proliferare di servizi diurni di centri estivi di doposcuola come momenti nei quali i ragazzi bambini vengono non solo non solo trovano una risposta alle famiglie quindi ai bisogni che possono avere anche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ma è un luogo dove l'osservazione dei nostri operatori dei nostri educatori in quei servizi ci permette di osservare anche eventuali derive di atteggiamenti in modo tale da intervenire in termini preventivi l'abbiamo potenziato tanto anche l'aspetto dell'affido familiare che è una grande risorsa e che va ulteriormente potenziato quindi dovremo lavorare ancora di più su questo tipo di risorsa perché l'affido familiare è la modalità per evitare l'allontanamento in comunità in quei casi in cui come dire comunque il tribunale interviene e comunque ci dice che c'è una criticità nelle capacità genitoriali su questo sicuramente dovremo cercare di portare anche un'attenzione dall'affido familiare a quella che noi chiamiamo vicinanza solidale o famiglie d'appoggio cioè immaginarci che quella rete di vicinato che è magari la mamma del bambino che va a scuola con i nostri figli piuttosto che il vicino di condominio abbia del tempo da dedicare a nostro figlio che in quel momento non ha noi perché siamo a lavorare ma può darci un servizio importante la violenza il tema della violenza di genere chiaramente ci porta a dire che siamo in un protocollo provinciale siamo in una rete provinciale quindi il servizio è un servizio estremamente come dire capillare nelle risposte dalla quello che è il primo ascolto della donna maltrattata alla casa d'emergenza quindi come luogo di primo rifugio a poi una dimensione di centri antiviolenza e di dimensioni anche di assistenza economica con il reddito di libertà su questo recentemente a gennaio il comitato dei sindaci con una delibera apposita ha chiesto che si possa sulla base di quel concetto di territorialità di prossimità territoriale si possa immaginare anche uno sportello di quel centro antiviolenza di Pesaro anche sul territorio del nostro ambito e questo perché perché la donna maltrattata ha bisogno di venirsi a raccontare nell'immediatezza e nell'urgenza vicino casa non è pensabile che come dire faccia numerosi chilometri e prenda magari numerosi mezzi perché non è in quelle condizioni né psicologiche né materiali detto questo che cosa ci viene chiesto ma assolutamente ci viene chiesto chiaramente di intervenire tanto sui servizi pomeridiani quindi un grande aiuto alle famiglie in quella fascia di giornata che per loro spesso rappresenta attività lavorativa e chi non ha rete parentale e sempre di più non ci sono le reti parentali rispetto agli anziani i genitori eccetera i nonni eccetera ci chiedono servizi ecco perché siamo abbiamo pensato di attivare anche quei dopo scuola che diventano anche dei momenti aggregativi dopo l'aiuto compiti nei vari territori perché la risposta a questo bisogno noi l'avevamo già intercettata come proveniente dai territori quindi dovremo sempre di più andare un po' verso quella dimensione ma non solo ci chiedono anche di avere degli spazi di confronto fra genitori quindi dei luoghi dove dei centri famiglia piuttosto che non dei luoghi informali dove i genitori possano confrontarsi sulle proprie esperienze sulle proprie criticità anche di gestione delle relazioni con i propri figli direi che se dobbiamo un po' accelerare possiamo andare ok allora qui abbiamo il tavolo giovani questo è stato un tavolo che come ho osservato io e lo vedete dai verbali che sono pubblicati sul sito mancava di una componente fondamentale e cioè le associazioni giovanili già questo di per sé dice tanto dice che probabilmente quelle associazioni hanno bisogno di essere intercettate adesso con il nostro lavoro territoriale di coprogettazione per cui se dobbiamo portare servizi nei comuni e dobbiamo portarli soprattutto in termini in sede fissa quindi fisici i luoghi ci sono stati chiesti i luoghi dell'aggregazione probabilmente perché venendo fuori da due anni e mezzo di pandemia si ha proprio la necessità di ritrovarsi nello stesso luogo e guardarsi a poca distanza e parlarsi a poca distanza il forte grido di luoghi dell'aggregazione ci sta portando a immaginare un progetto che è costruito che chiaramente è coordinato dall'ambito ma costruito con le realtà associative dei territori che metta in grado che permetta ai comuni di offrire gli spazi dove ce li ha e dove non ce li ha spazi che sono anche le biblioteche anche gli oratori anche quelle dimensioni che magari in questo momento sono chiuse non utilizzate o che possono essere valorizzate ancora di più perché hanno degli orari disponibili quelli possono essere dei luoghi dove andiamo a costruire che cosa essenzialmente spazi dove loro possono esprimere le loro come dire passioni quindi la musica quindi il teatro quindi anche l'informatica per cui la come dire tutto il tema della robotica della dimensione ormai 4.0 è assolutamente di grande interesse per la fascia soprattutto adolescenziale quindi di portare sui territori alcune delle esperienze di alcuni servizi che noi abbiamo in questo momento su Fano da qualche anno che parlano sia di promozione quindi della tecnologia che della musica per fare le prove piuttosto che non costruire droni o robot ma anche di esperienze che possono orientare i ragazzi nella scelta dell'università piuttosto che del lavoro post-universitario piuttosto che nella compilazione di un curriculum quindi cercando di portare anche sul fronte dell'orientamento nei territori questo tipo di offerta di servizi il tema dell'unità di strada la conoscete perché l'abbiamo presentata più di una volta è il tema dell'animazione territoriale che noi vogliamo portare che stiamo già portando già da quasi un anno nei territori per coinvolgere per cercare di intercettare i cosiddetti gruppi informali cioè quei ragazzi che in modo spontaneo si incontrano nel campetto da calcio piuttosto che non lo so in un'altra dimensione del paese o della città ma che è bene intercettare per in qualche modo agganciare e magari allontanare da alcune dimensioni che possono essere un po' più critiche rispetto al contesto in cui si trovano quindi il lavoro che dovremo fare qui è ancora una volta un lavoro di rete dovremo lavorare con tutti coloro che nel territorio sono in grado di offrirci spazi opportunità volontari affinché tutto questo con l'apporto delle associazioni presenti giovanili e quindi le dobbiamo andare a scovare a mappare con l'aiuto anche qui delle assistenti sociali che conoscono il territorio con l'aiuto della rete che è dentro questi tavoli che conosce il territorio una volta mappate cominciamo a costruirci i servizi insieme perché questo ci chiedono e dobbiamo costruirli nei loro territori quindi i gruppi devono stare sul territorio di appartenenza il tema dell'immigrazione oggi più che mai questo tavolo è un tavolo una risorsa grandissima abbiamo sappiamo già un centro servizi immigrati con una mediatrice culturale che anche in questi giorni col tema dell'Ucraina quindi della crisi ucraina ci sta dando una mano anche proprio nel in qualche modo nel parlare con chi sta arrivando da quei territori perché anche il linguaggio è fondamentale prima di pensare ai servizi abbiamo attivato delle sedi territoriali anche nel nostro ambito in modo particolare se non ricordo male a Monteporzio e mi ricordo sia a Mondolfo le due sedi del Cipia Monteporzio me lo ricordo di sicuro a Marotta credo la sede del centro del Cipia ok e quindi questo ha permesso anche alle persone agli adulti immigrati che sono nel nostro territorio che devono fare insomma per forza acquisire il livello linguistico di non dover fare grandi spostamenti quindi ce l'hanno come prima come avveniva prima abbiamo rafforzato i doposcuola che saranno quindi presenti nei vari territori attraverso la presenza di una figura di volontariato specifico che ci offrono le associazioni proprio che lavorano su questi temi e quindi l'Africa Chiama e Mille Voci ci offrono un volontario che andrà nelle sedi dei nove comuni una volta alla settimana e in quella periodo di apertura del doposcuola faranno proprio insegnamento della lingua italiana ai bambini stranieri e anche alle loro mamme quindi sarà un'occasione anche per per i territori per poter dare un supporto di insegnamento linguistico il che cosa emerge anche qui allora qui emerge fortissimo questo è stato il tavolo secondo me in assoluto più ricco in termini di esperienze nel senso che è emerso una miriade di interventi molto importanti anche molto come dire di grande impatto sui territori ma davvero completamente slegati quindi è stata l'occasione per sapere l'uno dagli altri che cosa si faceva nella dimensione dell'accoglienza e dell'inclusione dei soggetti immigrati probabilmente questo deriva anche dal fatto che queste misure sono spesso finanziate da progettualità temporanee quindi da misure ministeriali o europee che hanno un inizio e una fine e che quindi nella brevità della progettualità in realtà non consentono di costruire una rete di servizi ma più interventi spot quindi è emerso che il tavolo di rete è fondamentale è fondamentale proprio anche per far conoscere alle persone questi interventi quelli che poi ne possono beneficiare tanto lo è che appunto lunedì mattina con questi componenti di questo tavolo ci troveremo a costruire quell'accordo di collaborazione che la prefettura ci chiede di poter mettere in campo nei nostri comuni per l'accoglienza degli ucraini mettendo in campo tutto quello che più o meno spontaneamente ma più o meno anche in qualche modo appunto organizzato dal nostro coordinamento riusciamo a portare nei nuovi territori dove le famiglie ce le abbiamo a Fano quanto ce l'avete a San Costanzo quanto ce l'avete a Mondavio quanto stanno arrivando in tutti i comuni del nostro ambito quindi come arriveranno negli altri per cui anche qui la rete diventa e il tavolo ormai costituito diventa una risorsa assolutamente una risorsa il tavolo dell'inclusione sociale ha un forte una criticità molto forte sul tema dell'abitare il tema dell'abitazione è un tema purtroppo di grande valore emergenziale la mancanza dell'abitazione è davvero una criticità che anche il sistema pubblico non riesce in qualche modo a rispondere in modo adeguato ci siamo immaginati nei vari territori anche soluzioni abbastanza innovative quali può essere l'housing first quello che si chiama housing first e quello che si chiama anche abitare supportato ma di fatto come dire il tema della casa resta e resta anche a livello educativo quindi è emerso che probabilmente dovremo fare un lavoro anche di educazione del territorio alla solidarietà perché sappiamo perché perché ci viviamo e perché mappiamo le realtà che non c'è una carenza di alloggi o di appartamenti c'è una mancanza di disponibilità di questi appartamenti che piuttosto che essere messi a disposizione quindi di una rete di solidarietà per queste persone che sono invece oggetto di sfratto sono chiusi rimangono chiusi quindi anche qui probabilmente un po' di davvero di lavoro educativo di territorio su questi aspetti va fatto abbiamo una buona risposta devo dire sul tema alimentare e del riuso materiale che poi diventa anche acquisto di beni mobili per redare una casa diventa anche acquisto proprio di materiale della quotidianità a prezzi davvero molto molto competitivi attraverso la rete Passamano che è una rete che vede dei protagonisti soggetti del terzo settore che ormai hanno portato sui territori sia la distribuzione quindi dei prodotti freschi e in alcuni casi anche a lunga conservazione ma anche quindi la possibilità di lavorare in rete col nostro servizio professionale quando dobbiamo andare ad inserire delle famiglie all'interno delle case che perché hanno avuto lo sfratto dobbiamo arredare quelle case possiamo grazie a questa rete avere e dotare la famiglia di alcuni buoni che gli permettono quindi di acquistare parte degli arredi a costi fortemente calmirati la rete di accoglienza comunità solidale è una rete che stiamo rimettendo in piedi e che chiaramente è una risposta soprattutto all'estrema marginalità quindi a quella fascia di persone che magari sono senza fissa dimora e si trovano sui nostri territori però come dire davvero in una condizione di estrema fragilità e grazie a quella rete abbiamo cercato di dare una risposta abbastanza completa che cosa ci viene chiesto dal tavolo dell'inclusione allora il tavolo dell'inclusione aveva anche la presenza chiaramente di tutte quelle che erano le associazioni della disabilità perché inclusione sociale ricomprende anche ovviamente quel tema lì quindi come includere la persona con disabilità quindi abbiamo comunque avuto quelle richieste che vi ho in qualche modo illustrato prima la casa sotto il profilo proprio della vulnerabilità socio-economica il lavoro ovviamente perché è strettamente correlato molto spesso al tema della casa e dal punto di vista dell'inclusione sociale della persona disabile anche un tema proprio che ci porta a ragionare in termini di come dire abbattimento delle barriere architettoniche in primis e quindi ragionare prima sul davvero sul senso della concretezza e poi sulla sperimentazione anche di quindi modalità alloggiative supportate sperimentazione di servizi domiciliari innovativi ecco questo è il tavolo della salute mentale allora il tavolo della salute mentale al di là dei servizi di cui già attualmente beneficia che sono i servizi di sollievo alla famiglia assistenza domiciliare le attivazioni di tirocini di inclusione sociale il tutoraggio ci sono sono stati attivati i centri di ascolto per le famiglie nei territori e questo è una come dire anche questo un intervento che abbiamo curato in modo particolare in questi due anni abbiamo voluto che i centri di ascolto fossero anche nei territori e quindi in un lavoro capillare con le nostre assistenti sociali riusciamo a in qualche modo orientare quelle famiglie che portano quindi il loro disagio di una persona con la salute mentale all'interno verso questi servizi specializzati quindi riusciamo a dare un sollievo quantomeno nel momento di essere ascoltati poi abbiamo una richiesta anche di potenziare i laboratori diurni siamo un po' carenti da questo punto di vista nel senso che è presente l'attivazione di alcuni laboratori ma sicuramente ne dovremmo fare di più per cercare di essere più presenti nei territori con i laboratori siamo un po' da questo punto di vista un po' fanocentrici con i laboratori quindi dovremo cercare di trovare dei luoghi anche nei territori dove ospitare questi laboratori il tema che vi dicevo prima dell'abitare assistito che è venuto fuori più volte sia nel tema dell'inclusione nel tavolo dell'inclusione che in questo specifico allora di che cosa parliamo parliamo in realtà di quel servizio che se vogliamo in qualche modo abbiamo sperimentato con il dopo di noi nel tema della disabilità e che vuol dire in qualche modo far sì che le persone con il disagio mentale possano avere una dimensione di casa assistita da un assistente personale in condivisione con un'altra persona che come loro in qualche modo ha lo stesso tipo di disagio ma è un disagio che appunto permette di immaginarsi un futuro di autonomia e di indipendenza quindi è questo un servizio che assolutamente è mancante nei nostri territori e quindi questa sarà una di quelle frontiere non così lontane che insieme alla sanità perché questo servizio si costruisce solo in forma integrata con la sanità dovremmo andare a mettere in piedi ringrazio tutti per questa bella significativa presenza e auguro a tutti una buona domenica un buon che grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti